parliamo di moto di cariche elettriche in un campo magnetico quindi qui abbiamo una carica q questo rappresenta il vettore forza magnetica q che moltiplica v vettore b qui abbiamo invece il campo magnetico rappresentato con un cerchietto e una x ad indicare che trattasi di un campo magnetico entrante e questa invece la traiettoria descritta dalla particella entrando in un campo magnetico con velocità ortogonale a b ecco qui l'alunno deve ricordare il concetto di prodotto vettoriale e definire automaticamente il verso e la direzione della forza magnetica la forza di Lorentz o forza magnetica è uguale a q che moltiplica v vettore b chiusiamo il simbolo di vettore ora la forza magnetica è ortogonale al piano vediamo qui è una forza ortogonale al piano individuata da vettori velocità e campo magnetico questa è la carica q questo che significa significa che non c'è un lavoro quindi una forza che non compie lavoro non c'è una variazione di energia cinetica della particella di massa m carica q ricordiamo che la direzione di spostamento è quella che è definita dalla traiettoria a cui è tangente il vettore velocità quindi possiamo pensare che se si tratta di una forza che non compie lavoro è una forza che non ha componenti nella direzione dello spostamento quindi la forza magnetica ortogonale al piano individuata dai vettori velocità e campo magnetico ed è utilizzata per deviare ecco importante questo la forza magnetica devia la traiettoria della particella quindi una particella che entra con una velocità v ortogonale al campo magnetico è soggetta ad una forza vedremo una forza centripeta che diciamo deve il vettore velocità in direzione ma il modulo della velocità è costante qui abbiamo una rappresentazione grafica nel piano se vogliamo del vettore campo magnetico uniforme della particella q del vettore velocità che ortogonale abbiamo detto al vettore b e naturalmente la forza di Lorentz per la regola che noi conosciamo del prodotto vettoriale è una forza che è ortogonale velocità e che in questo piano vediamo nel piano ortogonale al vettore b fa ruotare questa particella di massa m carica q descrivendo una circonferenza l'alunno deve capire bene che trattasi di modo circolare uniforme quindi trascurando la gravità se vogliamo ecco trascurando la gravità lo scriviamo qui l'unica diciamo forza presente è la forza di Lorentz ortogonale al piano contenente i vettori diciamo v e b andiamo alla slide successiva il modo della particella è circolare uniforme qui l'alunno può fare un ragionamento di questo tipo la forza è massa per accelerazione ma ricaviamo l'accelerazione come forza diviso la massa ma sappiamo anche che la nostra forza è quella di Lorentz e qv0b ricordiamo che i vettori sono ortogonali quindi l'angolo alfa è 90 gradi il seno di alfa è 1 e quindi abbiamo una forza massima perché il seno massimo lo abbiamo quando alfa è 90 gradi naturalmente io posso dire che l'accelerazione centripeta è q per v0b fratto m ma l'alunno deve ricordare che esiste un'altra formula dell'accelerazione centripeta che è velocità al quadrato diviso il raggio e la è uguale al secondo membro quello che facciamo qua il raggio lo possiamo ricavare da questa relazione semplificando v0 con v0 formula inversa ricaviamo mv0 fratto qb ricordiamo che la velocità angolare si può esprimere come v0 su r cioè la velocità agenziale legata alla velocità angolare al raggio da questa relazione quindi sostituiamo da qui io ricavo v0 su r come qb fratto m lo ricavo da questa relazione il periodo t e 2 pi greco diviso omega per fare un giro completo la carica q impiega un tempo t secondi che si può calcolare sostituendo al posto di omega questa relazione quindi abbiamo espresso in tutte queste formule il periodo il raggio in funzione della massa della velocità del campo magnetico b e della carica se il vettore velocità foro un angolo teta che questo con la direzione del campo magnetico che questa in questo caso il ragionamento è molto semplice abbiamo detto prima che si utilizza la forza di lorenz per deviare diciamo la carica che entra con una velocità v nel campo magnetico e se ortogonale abbiamo detto che la traiettoria una circonferenza ma in questo caso come dobbiamo ragionare semplicemente noi scomponiamo il vettore velocità in due direzioni una deve essere parallela b e l'altra deve essere ortogonale sono queste due questo fa sì che la direzione parallela non dia contributo alla forza di lorenz perché sappiamo che il seno di zero gradi è zero cioè se una una carica entra in un campo magnetico con direzione parallela al vettore b ecco non abbiamo alcuna forza che la forza di lorenz è q che moltiplica v vettore b essendo i due vettori parallele il seno abbiamo detto che è uguale appunto a zero se invece consideriamo la componente diciamo ortogonale a del vettore velocità diciamo quella ecco dal luogo a quello che noi chiamiamo la forza di lorenz ecco qui io ho riportato la velocità la componente ortogonale della velocità è quella parallela b quella parallela b non dà alcun contributo nella forza di lorenz semmai è quello che possiamo dire che la carica q è soggetta nella direzione di b a una velocità costante che dà luogo ad un modo rettilineo uniforme mentre la componente ortogonale entra in gioco nel calcolo della forza di lorenz ecco questa è la traiettoria che viene fuori una traiettoria liquidale dove c'è un passo p tra se vogliamo una spira e l'altra spira di traiettori intendiamo e la particella si muove con la velocità tangenziale v zero che è tangente alla traiettoria ricordiamo che la forza di lorenz ha come diciamo ha come risultato quella di deviarne la direzione della componente abbiamo detto ortogonale a b della velocità quindi questa traiettoria liquidale la composizione di due moti un modo circolare uniforme nel piano orizzontale meglio dire piano ortogonale vettore b e un moto rettilineo uniforme nel piano secondo la direzione parallela b quindi possiamo dire che la particella si muove di moto rettilineo uniforme lungo la direzione parallela b con velocità v con zero per cosenteta mentre ortogonalmente a b il moto è circolare uniforme con raggio e periodo che abbiamo messo qui in evidenza naturalmente la traiettoria un'elica e il passo di quest'elica si può calcolare ricordando che impiega un periodo t a fare un giro completo dopodiché teniamo conto che se io moltipico la componente della velocità per il tempo t ottengo quello che si chiama passo dell'elica quindi è questa distanza il passo è il passo rappresenta questa distanza naturalmente e quindi diciamo abbiamo queste queste questi cerchi no che sono distanziati di p fine della video lezione naturalmente abbiamo fatto una video lezione che riguarda la magnetostatica seguiranno altre video lezioni sull'argomento grazie a tutti